Tutti ragazzi, io sono Andrea e oggi siamo in questo nuovo video, oggi siamo su Maddex Andremo a fare dei livelli che io li ho già fatti come vedete, fino a livello 7 li ho fatti, ma oggi li andremo a fare insieme, vi farò vedere Allora, facciamo skip Allora, io faccio così senza usare l'ascensore, perché sinceramente non puoi aspettare Anche se forse dobbiamo usare perché Ok, hey, welcome to the game Bene, vedete, a livello tutorial è appena, non so E non lo so Deveva andare qui, non l'avevo visto, non lo so perché Tu stick to wall, press and hold Stick to wall, press and hold Così Prendere questo ascensore, diciamo che è un ascensore A me così piace chiamarlo ascensore Prendiamo qui il pulsante Andiamo a prendere Qui diventa già un po' più difficile perché ci sono i missili, ci sono i missili che ci guardano e ci vengono addosso, anche se ci spostiamo Allora, andiamo a prendere la chiave E' un po' difficile E va bene, oggi non ci riesco Adesso ho un po' di allenamento Allora, andiamo a prendere la chiave Perfetto 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 Io mi sono scaricato l'1 Perchè C'era scritta una recensione sul Play Store che il 2 Teneva livelli molto più difficili di quelli dell'1 E allora ho detto no 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 Questo è il livello 4 Ecco qui Tendiamo l'ascensore E andiamo nel blocco proprio al centro Altrimenti ci facciamo male Ok Ok Vabbè io Io sono cretino Io sono cretino Proviamoci Così, così, e di nuovo, teniamo il pulsante, e adesso saltiamo qui, no raga no, no, cos'è? Cos'è questa cosa, ma vi ricordo che a 5 like ci sarà il prossimo episodio di Maddex, a 5 like, quindi se volete un altro episodio lasciate un like, e sì, però per favore fate anche bene non lasciarlo perché, sì, io sono scarso un po', quindi se mi potreste, mi offendereste se vi lascio dei like, in questo caso, ma fate come volete. Vai, 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 vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo a livello 5, questo qui è più semplice perché dobbiamo andare qui sopra, poi c'è questa cassa, questa tarretta, dobbiamo buttarla giù, e metterla in questo modo che ritiene premuto il pulsante. Riesco a saltare, oggi non riesco a saltare purtroppo, non chiedetemi il motivo. E se riesco a saltare, devo andare sopra, dove c'è questo laser. Ok, sopra c'è la chiave. Adesso ci buttiamo giù. Dobbiamo mettere questo coso sopra l'ascensore, perché altrimenti dovrà rimanere bloccato qui. Adesso, prendendo lo sprinting, questo va nero, come andrò a saltare lì? Prossimo livello, livello 6, anche qui ci sono i missili. I maledettissimi missili. Poi questo lo devo fare così. Ok. Allora, l'ho fatto tante di quelle volte. Credo qua non me lo ricordavo. L'opportuna che la chiave è solo una. Allora, dobbiamo andare sopra tutto, e poi continuare il percorso sopra questi cosi. Ok. Così. Non ho capito perché sto coso perde sempre sangue. Così ci sta per usciutare il missili. E non ci abbiamo fatto. Questo sarà l'ultimo livello che faremo, livello 7, nonché l'ultimo livello che sono riuscito a superare. Questa è la terza volta che sto registrando, perché mi dava problemi con la registrazione, tipo ogni volta che si danneggiava. Questa è la terza volta che sto registrando. Questa è la terza volta che sto registrando in questo video. L'ultimo livello che non ci ha fatto più, ma non ci vedo questo gioco. L'ultimo livello che ti rompe un po'. Ok, abbiamo completato il livello 7. Magari ci proviamo a fare il livello 8. Ma non c'è quello che dice, io ho il tuo il livello 8. Quindi si rivolge. E' bello anche se non ci riusciamo mai. No, 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 no. Arrivati a 10 minuti di distrazione, getterò la spugna. Ho finalmente capito come si fa quella parte lì, con questi seghi circolari che ci dovranno. La dobbiamo fare così e ora non ci riesco più a fare niente, niente ci riesco più a fare. Dai, ma cosa? E vabbè, proviamo solo un'altra volta, perché praticamente questa è una contraria. Perché mi posiziono male, mi metto male. Ecco, così. Dovevo aspettare... Questa è l'ultimissima volta che ci provi. Ok, mi metto. Mi metto dentro l'altro, lo so dovevo posti così più. Così. Ok. No, il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un bel pollicione in su, perché a 5 pollicioni in su uscirà un nuovo episodio di Madness. E vi ricordo i vostri notizi social, ovviamente link in descrizione, telegram, sito, blog e alla pagina di Google Plus. Per appunto non perdere mai i prossimi video. E anche per non perdere delle notizie che vi dirò per adesso. Per oggi da Andre Gamer è tutto. Bella. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.